Noi abbiamo una pausa, torniamo tra pochissimo, ultima azione, ultimo argomento sempre relativo al mare di cui vogliamo parlare Nuotatori dalla isola di Capraia alla Corsica e cosa hanno visto, cosa hanno trovato e perché E allora come dicevo il 3 giugno tra Corsica e Capraia, tra Capraia e Corsica c'è stata una bella nuotata E di questa, ad ampio spettro di Capraia vorremmo parlare con, attenzione che adesso ho perso il mio foglietto Sofia Mannelli che è la presidente di Chimica Verde Bionet, buongiorno e benvenuta Buongiorno Laura, grazie mille dell'invito e dell'opportunità Grazie a voi anche per aver fatto questa bella iniziativa, tra l'altro Capraia ultimamente dappertutto Siamo entrati nella loro mailing list, vedo che fanno un sacco di cose Bisogna anche fargli complimenti perché sono l'isola più verde, vero? Secondo l'Unione Europea, di tutte quelle che sono nel nostro continente Hanno fatto un sacco di cose e quindi è giusto anche premiarli e parlarne Sono molto molto felice Allora, cosa è successo il 3 di giugno? Cosa è successo il 3 di giugno? Il 3 di giugno è scattata in quest'isola, come dice lei, un'isola speciale, un'isola magica Un'isola costruita dalle persone realmente Quindi dove realtà locali come la delegazione della Lega Navale Italiana Capraia Smart Island e Chemica Verde, che sono appunto questo contenitore creato dall'associazione che presiedo Ma anche il Comune, ma anche il Parco Nazionale, noi siamo un po' la perla del Parco Nazionale Hanno cominciato da anni a interagire e a costruire sensibilità diverse Poi è arrivata Cristina Di Tullio di Abbracciamo Liollus, questa associazione senza scopo e lupo Che lega sport alla cura della lucemia infantile E ha dato l'idea, insieme alla Lega Navale, di fare questa eco-notata Cioè, lei ha portato energia vitale, ha portato su questi concetti solidarietà L'idea è che la tutela dell'ambiente deve partire dalle persone E nuotare si rimette al centro delle persone E quindi la carta dei sindaci, quella che è stata fatta e portata Lungo questa attraversata a nuoto dalla Corsica a Capraia È firmata da due sindaci trasfrontalieri Un sindaco Corso, il sindaco di Rogliano e il sindaco di Capraia E questa è stata un'idea Quindi c'erano i nuotatori che nuotavano, quindi unendo idealmente le due isole E poi c'era, a bordo di una goletta di Greenpeace, credo Esatto La carta che veniva portata da una costa all'altra Affinché i sindaci sottoscrivessero il loro impegno Impegno però per cosa? Perché poi alla fine sia Capraia che la Corsica Diciamo sono un po' vittime di tante azioni di altri Quindi è vero che loro fanno del loro meglio Ma bisogna anche coinvolgere tantissimi altri comuni È vero, però si deve partire dai comuni che cercano di essere più virtuosi Per cui già partire da un'isola come per esempio Capraia Dove la raccolta differenziata è una raccolta complessa Dove qui comunque il materiale viene mandato in continente attraverso una nave Quindi il minore uso di ballaggi possibili In fondo, scusi, questo è il mio cane Martina che sta passando No, va benissimo Non è solo di persone, anche di animali L'idea è, era un documento preparato Ma lei è a Capraia? Smart Island Prego Lei è a Capraia? Adesso Io sono a Capraia, sì sì Io ho scelto di vivere a Capraia Bravo E quindi qui io mi trovo qua E qua se si cerchi di dare una mano alla comunità e alla realtà E nel 2019 noi di Chimica Verde insieme all'Egambiente Nazionale Preparammo una Vademecum proprio per il Plastic Free Era il periodo della direttiva SUP Della direttiva sui materiali monouso in plastica a livello europeo La stavano studiando E poi è arrivata E è stata recepita nel 2022 in Italia Quindi che abbiamo preso? Questa doveva essere, quando l'abbiamo fatta con l'Egambiente Una linea di consigli, di suggerimenti da dare ai sindaci Per diminuire l'impatto della plastica monouso È chiaro che era un po' obsoleto dal 2019 adesso Quindi col CNR IAS l'abbiamo ripreso L'abbiamo riportato alla realtà di adesso Abbiamo suggerito delle azioni da intraprendere Sia nel limitato che in tempi più lunghi Ai due sindaci I due sindaci sono uniti poi da una storia Perché la Corsica e Capraia facevano parte comunque della realtà genovese Fino al 1768 quando la Corsica è stata ceduta alla Francia Per cui è la cosa incredibile che il comune di Irogliano Gli anziani del comune di Irogliano e gli anziani capraiesi Parlano esattamente la stessa lingua e si capiscono Difficile per noi che parliamo italiano Ma loro si capiscono perfettamente Allora abbiamo deciso Ma rintegriamo questa linea sottile Che un tempo univa fortemente invece le due comunità Credevo mi dicessero Avete scritto la carta in lingua In lingua parlano No, loro parlano il corso Però in questo caso l'abbiamo fatta in italiano e francese Beh è solo ha fatto la traduzione in corso Tutti dobbiamo fare la nostra parte Solo così si può cambiare le cose Senta, quando mi dice piccole e grandi azioni Da fare adesso e più avanti Ci fa qualche esempio di quello che fate adesso E di cosa avete in programma? Per esempio, tra l'altro proprio il Capraia Smart Island L'evento che facciamo noi come Chimica Verde Monitorerà queste due realtà Quindi non è che poi lasciamo una carta allo svando I comuni si sono impegnati Ma noi li seguiamo abbastanza da vicino Molto da vicino Per esempio, nell'immediato un'analisi tecnica Dello studio della composizione merciologica dei rifiuti Per capire dove sono le criticità del sistema Oppure uno sviluppo partecipativo In funzione del contesto di intervento Per informare meglio i cittadini Perché in realtà poi qui è differenziata Capraia è proprio una differenziata con i cassoneti Semplici, tra l'altro multimateriale Abbastanza complicato Spesso si apre il cassonetto Anche qui in quest'isola meravigliosa Si vedono molti errori Ecco, smettiamo di fare gli errori noi per primi E cominciamo la campagna informazione Dedicata sia alla scuola del comune Che una cartellonistica informativa Che tra l'altro è già prevista dal comune Per spiegare meglio come si fa la raccolta differenziata Sembra assurdo Ma in realtà ancora ce n'è bisogno Per il lungo tempo invece Noi siamo sempre favoreboli E prima di tutto Ovviamente alla riduzione Alla sostituzione della plastica A un materiale lavabile o riutilizzabile E alla sensibilizzazione ai cittadini Le tre regole rimangono sempre Ma anche la sostituzione con magari un materiale bioplastico Funziona se c'è un post-consumo E un post-smaltimento fatto molto bene Quindi serve uno studio Analizzato bene Del ciclo Del fine vita di questi prodotti Per capire se poi dove la società di smaltimento Va realmente a smaltire Ci sono degli impianti per il trattamento Anche delle bioplastiche Recentemente è nato anche il consorzio Per il recupero delle bioplastiche Quindi lavoriamo tutti insieme Per dire È inutile fare una ottima raccolta Differenziata Se poi non abbiamo lo smaltimento vicino Perché voi comunque sia Dovete portare la terra Intendo dire sulla costa Lì cosa riuscite a fare? Forse al massimo L'organico Alcune cose che riguardano l'organico Non lo so In questo momento In questo momento Proprio attraverso il PNRR È stato finanziato All'amministrazione comunale La riorganizzazione totale Di quella che era Il centro di smaltimento rifiuti E si spera di riuscire a fare Anche un organico Stabile qui Finire un compost Magari un compostaggio di comunità Il problema esiste Quando siamo 150 d'inverno E siamo 2500 d'estate Quindi l'organizzazione È molto complessa Però provarci Provarci è assolutamente La parola d'obbligo Su una piccola comunità Perché poi Come dice il Capraia Smart Island E per questo Ci ha premiato La Commissione Europea Come lei ha ricordato prima Le isole Sono un laboratorio A cielo aperto Quindi facciamo noi E replichiamo Le buone pratiche All'esterno Sul piccolo Si può fare Si vede Se poi Facendo lo scale up Si riesce a migliorare Esattamente Esattamente Tra l'altro Voi appunto Avete questa Così Questa grande distanza Poi tutto sommato Dalla costa italiana Perché sono due ore Di traghetto O qualcosa del genere E quindi questo vi costringe Ecco Non è che dici Faccio un viaggetto La porta a terra Lì bisogna assolutamente Pensare A essere indipendenti A far bene le cose A conferirle correttamente A collegarsi Con la terraferma In maniera intelligente Senza spreco Noi E come dire Possiamo solo Farvi complimenti Ancora una volta E ringraziarvi Teneteci al corrente Di come vanno Le cose Va bene? Vi informiamo Puntualmente Dal 2017 Che abbiamo La vostra mailing All'interno Nella mailing list Perché siate importanti Perché Come riuscite Ad arrivare Per noi È veramente importante Come lo fate Noi siamo contenti Di arrivare Anche alla capraia Sofia Mannelli Buona permanenza Insomma sull'Isola Ci saluti tutti i residenti E buon proseguimento Con i vostri progetti Grazie Buon proseguimento Di lavoro a voi Grazie